Al via la cura di chi si prende cura, un percorso gratuito rivolto alla formazione e al sostegno dei caregivers. Le parole di Margherita Anselmi, che ha seguito la rete progettuale, e Silvia Marinucci dello IOM. Il progetto nasce da un'intuizione della Regione Marche con il progetto Facciamo Rete, che coinvolge più di 700 piccole associazioni di tutto il territorio della Regione. E ad Ascoli Piceno, lo IOM, il CAV e il Laboratorio della Speranza hanno pensato ad un percorso formativo di chi si prende cura, e quindi professionisti, parenti, operatori volontari, di chi è a fianco quotidianamente alla fragilità, perché è necessario dare il loro valore e avere uno spazio dedicato a loro. Questo è stato l'intento e l'interesse di questo percorso che abbiamo poi insieme strutturato, partendo dal basso per far sì che si valorizzassero le risorse. Questo corso si articola in due moduli separati. È possibile iscriversi al singolo modulo o ad entrambi i moduli, anzi noi consigliamo l'iscrizione ad entrambi i moduli. Un modulo riguarderà lezioni di musicoterapia, mentre l'altro sarà tenuto da una life and personal coach, e si focalizzerà sul prendersi cura di se stessi e quindi trovare tempo per sé e per lasciare andare il carico di stress. È possibile iscriversi a questo corso tramite le pagine social delle diverse associazioni, oppure compilando un modulo Google che sarà disponibile sempre su queste pagine.